L'emergenza sanitaria non ferma la solidarietà. Non saranno nelle piazze della provincia con i banchetti questo weekend, come accadeva da anni, ma le volontarie dell'AIL, l'Associazione Italiana per la Lotta contro le leucemie, i linfomi e il mieloma, hanno già distribuito 2000 confezioni di stelle di cioccolato, portando avanti la missione di sostegno alla ricerca e ai bisogni delle persone che combattono contro la malattia. Purtroppo paghiamo le conseguenze del Covid, non saremo purtroppo in piazza, come tutti sanno, però ci siamo organizzati per aiutare soprattutto le persone, i malati nostri della provincia. Quindi saremo presenti con il passaparola, con le stelle di Natale di cioccolato. Fino adesso hanno risposto benissimo e devo ringraziare tutti e soprattutto tutte le zone che ci stanno dando una mano e tutti i volontari. Come si devono comportare le persone che volessero aderire alla vostra iniziativa? Allora sul nostro sito, comunque siamo anche sui social Facebook e Instagram, ci sono i nostri riferimenti, i nostri numeri di telefono, quindi basta contattarci. Purtroppo o per fortuna siamo rimasti quasi alla fine delle stelle perché in due settimane sono andate a Ruva, ne abbiamo ancora in alcune zone, e questo devo ringraziare proprio tutta la popolazione. Un impegno prezioso e costante è quello dell'associazione in prima linea per aiutare chi soffre. Come verranno investite le offerte? Allora soprattutto per la ricerca e l'aiuto alle famiglie della provincia di Sondrio che hanno bisogno. Io dico sempre il mio numero di telefono ormai ce l'hanno tutti, quindi chiunque abbia bisogno o abbia una malattia di questa tipologia e sia in sofferenza mi può chiamare. Quattro i malati di cui vi prendete cura in quale modo? Allora noi aiutiamo economicamente il malato perché purtroppo con questa malattia non si sa cosa va incontro. C'è chi ha bambino piccolo, chi è adulto, quindi un sacco di spese e purtroppo tante volte ci si trova anche a casa dal lavoro. Quindi diamo un contributo economico.